Ciao ragazzi, benvenuti in questa seconda puntata della Sky Factory Vi ringrazio per tantissimi like che avete lasciato la scorsa puntata Quindi oggi l'obiettivo è come sempre di 600 like, mi raccomando Allora, nella prima puntata abbiamo fatto questa piattaforma e questi infested leaves E ora come ora abbiamo bisogno di un crux per poter recuperare un po' di stringhe Ora dovrebbe funzionare in questo modo, in modo molto semplice Abbiamo 20 stringhe nice E con queste 20 stringhe possiamo fare un paio di cosette Prima di tutto, ne abbiamo anche questa legna che non ci serve più ormai E prepariamo una cosa che in realtà è utilissima e ci serve tantissimo Ovvero, un barrel Ora, facciamoci un paio di barre, tipo mettiamo... Facciamone un po', facciamone tipo... Non dico troppi, però una decina sicuramente mi serviranno Quindi facciamo così, ok Perfetto E dovremmo avere tipo così, ok perfetto Siedi questi, facciamo così Non è così, ovviamente aspetta com'era, è giusto dal contrario Ok, così, in questo modo Perfetto, abbiamo un po' di roba Senza problemi E abbiamo 4 barrel pronti da essere usati Perché 4 barrel qui ragazzi? Perché dovrei far piovere il più presto possibile Si spera almeno che lo faccia E oltre a questo devo andare a craftare qualcosa con le co-web ormai Quindi devo farmi 1 e 2 di queste sic mesh Va bene, già così, già va bene Poi, se non ricordo male e io ricordo sempre male le cose Dovrebbe essere tipo così, così Tipo 1 e 2 Ah, tipo da così mi sembra Così, così, bam E abbiamo il nostro Oaxive Interessante, molto figo e molto bello Che andremo a posizionare sempre questo anche qui Ehm, in realtà potevamo metterlo anche un po' più Un po' più a lato Perché sarebbe stato più figo Ok E questo è il punto centrale del nostro Ehm, della nostra isoletta Perché dopo di qui ci faremo tutti i minerali possibili, immaginabili Ma soprattutto la cosa più importante La cobblestone, ragazzi miei Ok, ora come ora però abbiamo un piccolo problema Un grande piccolo problema Ci serve dell'acqua Ovviamente non possiamo fare nulla Una cosa importante è che in realtà Sono giocando una nuova tastiera Quindi avrò poche problemuccio a fare qualcosa Vi avete consigliato una cosa Ovvero di fare Game rule Keep inventory Ok E Come ne esiste? Ah, giusto Era keep inventory Con la cappa iniziale Bassa Ok, keep inventory Perfetto Ed adesso dobbiamo farla true Quindi Ho letto un po' di questi commenti Che diciamolo true Quindi la lasciamo attivata Ora come ora Dobbiamo anche vedere di fare questa cosa Ovvero fare questa qua Fatta Crafta sieve Fatto Questo non possiamo farlo Non è niente Però possiamo craftare la cobblestone Dalle small stone Shiftando la dirt Ovviamente Dicevo possiamo craftarci Con la cobblestone Attraverso il nostro sieve E come sempre sbaglio Perché adesso ho le macro Qui sulla sinistra Non mi va bene Come ho già detto nell'altro video Ho un po' di problemucci A selezionare bene i tasti A meno fin quando non mi faccio l'abitudine Allora Mi servirà della dirt Ora La dirt si fa con i sapling Non abbiamo troppi sapling Sinceramente Quindi Magari riusciamo a farci Ma la pena uno di questo Quindi potremmo già iniziare a fare così Perfetto E Quasi quasi Dovremmo riuscire anche a recuperare Un pezzo di dirt di qui Ora Facciamo così Prendila Ok perfetto E facciamo qui dentro Shiftando Vediamo un po' Cosa possiamo recuperare Ok Due pezzi di stone Va bene Già qualcosa possiamo farcela Appena adesso abbiamo un po' di roba E Visto che ci siamo qui Possiamo tranquillamente chiudere E avere così La libertà Di spostarci meglio Ok Lascia lava lì dentro Allora vediamo un po' Dove era qui Sta un attimo compostando Volevo 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 Sicuramente Fare qualche arma Comunque inizia da fare le cose La tinker Perché la tinker è importante In questo modpack Ma dovrei che possiamo fare un sacco di cose Con la tinker Per il fatto che non so Se posso fare con la stone Però vabbè Iniziamo con le normali Per adesso La prima di tutto Bisogna fare dei casting Ora i casting si fanno Prima di tutto con gli stick Quindi stick In questo modo Avevo le arti stick avevo Pattern Facciamo le otto che tanto Mi serviranno in futuro Quindi meglio farne un po' di più Uno Poi Ci servirà uno di questo Perfetto E per finire Con la crafting table Quindi così Crafting table E tadam Bam Benchmarking Al tempo abbiamo tipo Vari cosi Che devo fare così Perfetto E andiamo a posizionare Uno Due E tre Perfetto Ok Allora andiamo qui dentro Iniziamo a selezionare Facciamo per adesso Il piccone Anche se dovrei iniziare L'ascia Iniziamo con l'ascia Magari Ascia E facciamo questa Ok E sperando Si possa fare il legno Io sarebbe un'ottima idea No Non si può fare il legno Perché questa Almeno Ti chiede che cosa Stone Flint Bone Obsidian Niente Quindi dovrò per forza Accontentarmi adesso Di non fare nulla Della tinker Perfetto Quindi mi servirà Ovviamente Prendere questa dirt E prendere un po' di cobblestone Se riesco Andiamo un po' Ok Sei pezzi di cobblestone E con questa Possiamo farci finalmente Un pezzettino di cobblestone Non male Non male davvero Ok Ok Potremmo in realtà Facci Almeno l'ascia In stone Anche se non so Part can be the place Ed Questo significa Che abbiamo all'interno Una delle mod Che ne piace di più Che voi conoscete sicuramente Ragazzi miei Perché voi siete esperti Di queste mod E io ve le faccio sempre vedere Durante i video Quindi sicuramente Conoscete la tinker Perché voi siete fammi Se seguite il mio canale Sapete cos'è Che sto per utilizzare adesso Ok Questo Questo qui Perfetto E questo qui Perfetto Eccolo qui Clumsy Questo significa Che il nostro piccolo amico Con shift Ha dei livelli Quindi questo significa Troppe cose Queste significa Vabbè dettagli ragazzi Comunque Questa cosa Ci indica Che abbiamo Una delle mod migliori Del mondo Ovvero Liguana tweak Infatti clicchiamo sopra Esito tinker Però ovviamente Abbiamo anche liguana Tranquillamente Perfetto E tempo di farmare E di aspettare Che magari piova E siamo anche felici Perché se piove Possiamo passare Al prossimo coso Che è qui vicino Ovviamente così Possiamo fare questo E possiamo fare anche questo Quindi dobbiamo per forza Farmare un pochetto Forse vi accenderò La luce adesso Perché c'è molta Poca luce adesso Nella mia camera E quindi potrebbe essere Un'ottima idea Vediamo un po' Nel frattempo Qui è iniziata a piovere E sinceramente È un po' fastidioso Il rumore del weather Quindi io lo abbasso sempre Perfetto E cosa facciamo Mangiamo un po' di mele Magari che Stiamo già morando di fame È un'ottima idea Comunque mangiare le mele Invece di buttarci giù Perché Buttarci giù Magari è un po' cittoso Io in realtà Non userò quel metodo Perché è un metodo abbastanza stupido A mio parere E il fatto che sta piovendo qui Non è che mi aiuti tantissimo Perché così Devo per forza In qualche modo Recuperare un po' di legno Comunque Guardate quanto legno ho Tipo già un'infinità Va benissimo Così stiamo andando Davvero molto bene Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfetto Non ce la faccio Vabbè fa nulla Se ce la dobbiamo fare così Perfetto Opla Eccoli qui Due di questi Visto che ci siamo Facciamoci anche dei 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 slab Perché Di qui Ok sopra Volevo metterci Tipo le slab Ok Ops Ma in realtà Sì 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 Vabbè In realtà Potevo anche sistemare In modo differente Tipo qua sopra Vediamo adesso Inizio a rompere tutto Ok Devo fare tipo Così 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 Perfetto Così facendo Almeno Riuscirò Senza troppi problemi A piazzare Anche dei barrel Senza che si riempino d'acqua Perché in realtà È un po' bruttina come cosa Ok Dai rompiti E Opla Allora Uno Due E tre Per in un momento Magari possiamo anche Andare più avanti E qui dentro ci mettiamo Questi qua Dovremmo iniziare già così Ok Se i conti sono giusti Dovrei averne 24 In totale Cioè Ne ho 28 Quindi in realtà Avanzano 4 Perfetto Quindi uno Possiamo mettere qui Gli altri ce li abbiamo Comunque lì dentro Senza problemi E A posto Dovevamo solo aspettare Adesso che essiccano E faccio tutto il resto Qui dentro Devo metterci la roba Nel senso che Adesso serve a me La clay Però Però Mi servirebbe anche Sostanzialmente la clay E porcellana E Ovviamente Devo fare una bomb farm Se vuole fare una porcellana Il legno Mi sta Suficientemente abbastando Uh Tanni un barrel Addirittura E Dobbiamo farci questa roba Anche in futuro Vabbè Adesso non ci serve Quindi va bene così Allora Vabbè Facciamo in questo modo Ragazzi miei Recuperiamo un attimo Questa roba Al tempo che finisca Facciamo qui dentro Nel seawing E tutto il resto E sperando Di avere abbastanza roba Tipo abbiamo due stone Spero almeno almeno Di trovarne Tipo otto Qui dentro Davvero Se trovo otto Sono messo benissimo Ok Perfetto Tre di questi Andiamo un po' Facciamo un po' di seawing Molto Molto estremo Sperando di trovare qualcosa Non sto nemmeno guardando Cosa dicevo dentro Vai 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 Per favore Esce qualcosa di bello Ah neanche Sotto trovo anche dei semini Tredici Tredici sono tre Perfetto Quelli che volevo io Ottimo Adesso cosa devo fare Devo farmi un hammer L'hammer ci può fare tranquillamente Anche in legno Meno male direi Perché altrimenti dobbiamo fare Un paio di cosette in più E si fa in questo modo Stick ovviamente Ne ho fatti di più Perché mi serviranno di più E due di questi In questo modo Perfetto Eccoli qua Dobbiamo quindi fare in questo modo Uno due tre Facciamo di qui A tre perché in realtà Mi servono due tre Facciamo uno Due E tre E la stone C'è la cove Sono piazzata Diventerà gravel Poi un due tre Ovviamente questa cosa Funziona anche con la Con un hammer miner Diventano sand La gravel E poi dalla gravel Noi possiamo farci addirittura La sand E poi dalla sand La dust Quella che ci serve a noi Ovvero la dust In sostanza Si Ok Ci serve uno di questa Perfetto E basta Questa la possiamo In realtà rompere Tranquillamente Ci darà quattro pezzi di clay Che è quella che mi serve Perfetto E con la clay Possiamo andare A fare la prima cosa Ovvero un bel secchiello Di Unfired clay Devo comunque cuocerlo Però mi servirà Della cobblestone Che naturalmente non ho Quindi dobbiamo aspettare Però nel frattempo Possiamo farci qualche piccola cosa Questo l'abbiamo fatto Per esempio Questo l'abbiamo fatto Shift gravel sand And dust In sieve Non ho ancora fatto Tinker construct Bone Non ho flint Non ho ancora E Questo l'abbiamo fatto Craft E cook Cucca crossable Qua sono ancora Quindi dobbiamo aspettare Bull Cobblestone generator Perfetto Non possiamo fare nulla Di quelle cose Perché lì sono un po' più complicate Quindi magari Quasi quasi Sapete che facciamo Iniziamo la costruzione Di un piccolo posto Per far spawnare i mob Ovviamente Punterei a fare le slab Ok E poi ovviamente Mi serviranno sicuramente Questi pezzi di legno Quindi Troviamo tutti normalmente Perfetto E tanto mi serviranno Quindi facciamo così Andiamo tipo da questo lato Sembra lì devono essere Comunque distanti Parecchio Tipo 20 blocchi Più o meno Quindi Non è un problema E devo fare in modo Che la gente Non possa passare di lì Perché se mi fa il culo Mi ammazza E non è per niente bello Ragazzi miei Quindi bisogna fare Molta attenzione Ok Sicuramente smetta di piovere Anche se in realtà Un po' di barrel Voglio riempirli ancora Però quelli Li tengo riempiti Tranquilli Anche perché poi Mi serviranno per l'acqua Ok Fino qui per esempio Già va bene E costruiamo Un qualcosa Di non troppo grande Oddio Eh non me lo fa costruire Ah devo essere un po' più grande Probabilmente tipo in altezza E devo Devo in qualche modo Fare così tipo Facciamo tipo così Ok giusto perché Qua lo fa in altezza Così in questo modo E A me servirebbe Allora fare così Tipo devo farlo in altezza Vero così Scusate mi ho sbagliato io Ok Deveva essere un po' più alto Tipo questa parte Perfetto Adesso possiamo iniziare A costruire tutto quanto Deveva essere una cosa Non troppo grande Ma comunque decente Per esempio Già così Già dovrebbe andar bene Facciamolo piccolo Perché poi lo costruiamo Tutto in cobblestone Quando avremo più roba E se possibile Da questa roba Voglio recuperare Almeno le ossa Perché le ossa Sono le più importanti All'inizio Perché ragazzi miei Fate le ossa Che succede Possiamo tranquillamente Essere felici E fare la porcellana Che è comunque La cosa più utile In minecraft Adesso Ora come ora Nell'early game Ok La porcellana si fa tipo Con un prezzo di 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 Non mi ricordo Di clay Ok E un pezzo Di bomb meal Quindi qualcosa di molto semplice Insomma Ok Va bene Questo lo sto costruendo Pian piano Adesso lo faccio in off camera Noi ci vediamo Nella prossima puntata Della nostra Sky Factory Quindi ragazzi miei Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ovviamente lasciate un bel like Se lasciate un like Come nella scorsa puntata E ricordate Qui sotto trovate il link Per facebook Fragger E instagram Sono tre social Che io uso Molto spesso Quindi se volete Andate a mettere un bel segue Con cui si potete seguire un sacco di cose E potevate sapere Per esempio Che qualche giorno fa Ero al BG Anche se non vi avevo avvisato Tramite youtube Tranne per il video Mezzo video che Abbiamo fatto Sul Su asgard In ogni caso Mi raccomando Andate a seguirlo Che si potete sapere un sacco di cose E magari non riesco a dire Anche su youtube Ciao